... Ha trovato dei miglioramenti da parte dei suoi giocatori proprio a livello psicologico, a livello di spogliatoio in generale. Ma dopo la partita di Bari noi abbiamo avuto subito quella col Benevento in casa che era una partita ovviamente difficile, però è stata interpretata bene, la squadra ha messo in campo quello non che chiedo io, quello che chiede qualsiasi allenatore, quindi massima attenzione, massima determinazione e quindi è venuta fuori una vittoria a mio giudizio importantissimo. In questo finale di campionato non c'è solo follia nervosa. Non ne voglio parlare più perché sono stato molto molto chiaro, credo un paio di giorni dopo, quindi non voglio ritornarci, però se tu sei stato giustamente attento a quello che è successo l'anno scorso dovresti essere altrettanto attento che questa sia stata l'unica sconfitta, se no qui ho avuto sempre la fortuna di vincere e quindi è diciamo così che è stata l'eccezione l'anno scorso. È una partita ovviamente con aspettative completamente diverse, però gustiamoci questa per quello che ci riguarda. Dicevo prima della concentrazione che ho solo, ma non personale, nel riuscire a salvare sul campo questa squadra. Loro non lo so per quale motivo però hanno capito quello che vorrei io e sono interpreti un pochino del mio sentimento e non pensano ad altro perché tutti sanno che comunque sia sul campo una salvezza sarebbe un risultato straordinario, poi quello che verrà, lo valuteremo però credo che quello che verrà non riguarda in questo momento solo il Lecce ma sarebbe un terremoto generale, quindi aspettiamo il 13 maggio, però fino al 13 maggio voglio stare veramente in campo e godermi questo Lecce e le prestazioni di questa squadra. Ok, grazie, bocca al lupo, buon rientro, buona serata. Le tre partite in una settimana lasciano inevitabilmente il segno, quindi ci sono giocatori che per piccoli infortuni recupererebbero in una settimana, altri che invece non ce la fanno, quindi questo è vale per noi ma credo per quasi tutte le squadre, quindi la scelta è stata quella di portare Scozzarella in panchina perché il suo era un problemino un pochino più rischioso rispetto agli altri, Petovic aveva solo un'infiammazione e quindi non voglio parlare di turnover perché poi anche Coronado stesso che oggi è disponibile dopo una settimana, insomma va in panchina perché deve ritrovare la condizione, chiamiamolo così, per poter essere in squadra dall'inizio. Perché parlavo prima con lo staff e gli ho detto ragazzi siamo arrivati da sei giorni, sembra che sono due mesi, che sono qua, sono sei giorni e quindi in realtà insomma ho inciso relativamente insomma, adesso ci avrò più tempo per fare danni quindi. Sì. 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 Grazie a tutti.